Ben ritrovati amici di Calcissimo.com, alcuni addi eccellenti potrebbero caratterizzare anche quest'estate la sessione di mercato del Milan, infatti Capitano Ambrosini ha allettato da alcune sirene importanti provenienti dagli Stati Uniti, in uscita anche Matteo Flaminé, in scadenza di contratto non dovrebbe essere rinnovato il centrocampista francese che potrebbe tornare in patria, piace al Marsiglia ma anche alcune offerte dall'Inghilterra, fra cui il Newcastle, in uscita anche la situazione legata a Cristian Abbiati, il portiere rosso-nero va in scadenza nel giugno 2013, appetito da diverse squadre, hanno sondato il terreno con il suo agente Claudio Vigorelli in Inghilterra e Southenton e in Italia la Roma, Sabatini vorrebbe un portiere di esperienza per blindare la porta della Roma dopo il tour beyond i portieri dell'ultima stagione fra Goicocea, Lobont e Stekelenburg. Un Milan però anche attivo in entrata per completare la difesa e in scadenza di contratto Bonera potrebbe non rimanere, tutto da discutere col Villareal, il riscatto di Zapata. Milan che acquisterà dunque almeno un difensore se non addirittura due, un giovane da far crescere potrebbe essere lo stopper dell'Empoli, Vasco Regini in compartecipazione fra Toscani e Sampdoria. Sta facendo benissimo il miglior difensore della Serie B ed è un pilastro titolare dell'Under 21 di Davis Mangia ed inoltre un difensore più esperto e importante da mettere subito nell'undici titolare al posto del deludente Mexes. In questo caso sono due i nomi sulla lista di Ariedo Braida, Medi Benatia che sta facendo molto bene all'Udinese potrebbe andare via per una cifra tra i 10-12 milioni di euro, ma soprattutto Astori un cavallo di ritorno, il difensore classe 87 cresciuto nel settore giovanile del Milan potrebbe tornare per una cifra intorno ai 10 milioni, più la metà di un giovane attaccante rosso-nero che sta facendo sfracelli in Serie B come Gian Mario Comi.